Hai un pubblico impressionabile. Questo è il titolo dello speech di Riccardo Scandellari, divulgatore, formatore e consulente in ambito branding e comunicazione che accogliamo sul palco. Grazie. Grazie Deborah, grazie Gerardo, grazie a voi che siete rimasti fino a quest'ora e grazie anche al pubblico da casa che ci ha seguito fino ad adesso. Allora, c'è il giraslide anche. Per chi si occupa di marketing, probabilmente adesso dirò un po' di banalità, ma voglio arrivare al noccio della questione e del problema. Perché tutti noi, noi che facciamo marketing e voi che non lo fate, eh sì, perché questa mattina e oggi pomeriggio ho notato questa cosa. Ma l'avevo già notata facendo delle ricerche su chi si occupa di immobiliare come agenzia o come libro professionista, cercando dei case history, cercando dei casi studio da poter mostrare per dire questo è bravo, questo non è bravo, questo ha fatto bene, questo ha fatto male. Poi alcuni li ho anche trovati, ma Gerardo, che non so dove sia, me li ha fatti proprio togliere perché, no, questo non si può far vedere, questa è una persona chiacchierata, questa agenzia, è meglio non farla vedere perché non è presente. Allora ho tolto dalle slide tutte le citazioni delle aziende italiane o delle personaggi italiane perché potevo urtare la sensibilità di qualcuno e poi non è neanche giusto, secondo me, non bisogna mai parlare delle persone assenti, perciò parlerò solo delle persone presenti, ovvero voi. Da dove partiamo? C'è qualcuno che sa cosa significa il termine nerd. Da, davvero, perché a volte lo dico, c'è gente che si offende addirittura perché pensano altre cose, che alzi la mano chissà cos'è un nerd. Allora, io credo di essere, Rudy poi testimonierà se è vero o no questa cosa perché non vorrei fare un eccesso di narrazione su me stesso, credo di essere un nerd. Che cos'è un nerd? Il nerd non è qualcuno che è afferente solo alla tecnologia, uno potrebbe essere nerd della musica, potrebbe essere nerd della compravindita delle case, potresti essere nerd di qualsiasi argomento. Il nerd si contraddistingue, si distingue dalle altre persone sul fatto che, ne raccontavamo proprio oggi, va da un punto A a un punto B completamente schiacciando sassi e volendo arrivare al punto B. Tutto quello che è il contorno non gli interessa o gli interessa poco e quindi ha un obiettivo nella vita, una passione potente nella sua vita e cerca di perseguire questa passione potente. Ecco, io sono un nerd dal punto di vista dell'informatica, dell'informatica e poi della comunicazione. E devo rilevare questa cosa, che non sarà sfuggita a nessuno di voi, che siamo nel 2022. Quando ho iniziato io a fare il nerd nel settore informatico, ho iniziato nel 1998. Prima lavoravo in fabbrica, non sto scherzando, poi a un certo punto, tanto che mi piaceva tantissimo in casa sviluppare, scrivere pagine HTML, creare i primi siti che nel 1998 nascevano allora, ho cominciato a fare siti internet, prima per me stesso, per far vedere agli altri che bravo che ero in questa tecnologia, che nessuno sapeva, perché poter accedere nel 1998 a internet erano pochissimi, bisogna avere un computer, quelli col tubo catodico, vi ricordate? Un modem che andava a 14.400 baud, che adesso vedreste comparire le scritte in questo modo qua per poter comporre la pagina, quindi era un'opera praticamente pionieristica nel 1998 collegarsi a internet. Contate che questo strumento qua ha 15 anni. 15 anni fa Steve Jobs lo mostrò a copertino al pubblico, quindi non stiamo parlando di cose accadute 50 anni fa, stiamo parlando di cose molto, come si dice, recenti, recentissime. Siamo nel 2022. E da, ha detto al settore, da uno che studia dalla mattina questo settore del marketing digitale, perché proprio sono focalizzato più sulla parte digitale, anche se in questo momento sto anche ampliando la mia cultura da questo punto di vista, devo rilevare questo. Tutti voi riconoscerete il codice JavaScript con cui si può mettere all'interno di un footer della vostra sito internet, o del vostro e-commerce, o della vostra landing page, questo codice JavaScript che induce il browser ad assumere un file di testo che si chiama Cookie. Chi è che l'ha riconosciuto? Pochi, pochi. È per i nerd, ragazzi, non vi compete saperlo, fate un altro mestiere, è come se io venisse a chiedere a voi come si fa un rogito, ho sentito parlare di un rogito oggi per la prima volta in vita mia, anche se ho comprato già due case, quindi, ok, non compete a me sapere cos'è un rogito, non compete a voi sapere cos'è questa roba qua, ok? Ecco, questa roba qua è il passato, non c'è più. Fra qualche mese ce lo scorderemo, già adesso non funziona più, perché un'azienda che si chiama Apple, e non solo, Brave, Google stesso ha detto che lo bannerà, lo toglierà, anzi, non bannerà, ma lo toglierà dai suoi browser già nel 2023, quindi fra pochi mesi, questa roba qua ci permetteva, fino a tre anni fa, di vivere un internet bellissimo, perché era un internet in cui, con pochi soldi, eravamo pieni di lead che poi si trasformavano in prospect. Era facile tracciare le persone. Vi ricordate che andavate su Amazon per vedere la borsa dell'AP4 o dei Lego, e subito i Lego e la borsa dell'AP4 vi seguivano dappertutto? Questa roba, l'avete ancora? Sì, se non hai un adblocker, sì, se hai ancora Chrome, o come si chiama Edge, quello di Microsoft, no, se hai Safari, no, se hai un Mac, ok? Quindi sì, lo puoi vedere ancora, ma è questione proprio di mesi, e non lo vedrai mai più. Questo è un grande danno a chi fa marketing, alle agenzie di marketing, perché fino a ieri, con pochi soldi, con mille euro, andavi a spendere sulle persone precise, quelle che abitano lì in quella zona lì, che hanno cercato la casa, che hanno fatto tutto quello che dovevano fare per lasciare tracce e per dire io ho bisogno di comprare casa, io ho bisogno di vendere casa. Sparito. C'è più. Ok? Poi c'è un altro problema. Adesso faccio tutti i problemi e poi andiamo a risolverli. Faccio sempre così. Prima creo problemi, poi risolvo problemi. Oggi le persone, adesso vado molto veloce su questa roba qua, perché già è buonsenso, l'intuiti da solo, le persone sono bombardate dalle informazioni. È impossibile comprare qualcosa perché c'è passato per Instagram come pubblicità. A meno che questo non costi meno di 30 euro e comporti un basso rischio, quindi un libro va bene, un gadget da 10-20 euro va bene, ma una casa non la vendete su Instagram, un'automobile non la vendete su Instagram, un'aspirapolvere non la vendete su Instagram, qualsiasi cosa costi più di 30 euro, lo dicono le statistiche, non la vendete con sta roba qua. Quindi far la pubblicità, la vecchia pubblicità, che adesso vedo molta gente che impropriamente usa i social per fare pubblicità, non funziona perché la gente, essendo bombardata dalle informazioni, cosa fa un cervello bombardato dalle informazioni? Si difende, lo diceva Daniel Kahneman, ha scritto, anzi ha vinto il premio Nobel all'economia, uno psicologo eseriliano che ha vinto il premio Nobel all'economia per aver scritto un libro che si chiama Pensieri Lenti e Veloci, in cui racconta che il cervello umano funziona con due modalità, il sistema 1 e il sistema 2, adesso vado molto veloce, dove nel 99% dei casi usa il sistema 1 che in pratica vede le cose e neanche come se non le avesse viste, proprio come succede a un nerd, i nerd di solito si fermano e si focalizzano solo su una cosa che gli interessa. E infatti questo è il pubblico che noi ci troviamo, con cui ci troviamo a che fare, vedete lì in fondo anche, non so se c'è il laser qua, c'è anche fantotti, vedete? Questo è il pubblico che vi ritrovate dall'altra parte dello schermo quando fanno scrolling sulle loro news feed di Twitter, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera, eccetera. Questi usano il sistema 1, non il sistema 2, quello con cui pensano interessante, quanto costa questa casa, chi posso contattare, adesso mando subito una mail, usano tutti il sistema 1 e lo vedete quanto sono interessati a voi, perché nel momento in cui usano i social sono in pausa pranzo, sono svaccati mentre guardano Netflix sul divano, ok, per tutta una serie di motivi che adesso non vado a indagare e a raccontare, fanno così. Tant'è che siamo talmente insensibili anche le promozioni, quelle con cui ci telefonano, avete, c'è qualcuno che, io ormai non ho più abilitato le telefonate, tutti gli sconosciuti che non sono in rubrica io non rispondo mai e leggendo queste notizie ho detto ah ma ma devo ricordarmi che se mi perdo in montagna devo abilitarle queste cose perché faccio il rischio che capiti anche a me una roba del genere, perché avendo io bloccato la qualunque se mi chiamano i soccorritori non rispondo neanche. Cioè è capitato a lui, ho pensato ah che cretino sto qua poi ho detto piano, cioè a me capiterebbe la stessa cosa e quindi avete visto quanto le persone cercano di difendersi da questi strumenti qua e dalla promozione e dalle cose che ritengono interessanti. Ci siamo? Allora non potendo perché me li ha castiati giustamente a Gerardo avevo trovato la stessa cosa in italiano di un italiano. Ho dovuto cercare uno di Las Vegas non so ah sì Las Vegas è un agente immobiliare di Las Vegas spero che non sia in sala o collegato perché a questo punto mi cadono le braccia però questi sono i post che ho visto ovunque anzi ne ho cercati di diversi non li ho trovati. Cosa dice questo? Ciao se vuoi l'assistenza per affettare comprare vendere casa contattami subito che io sono qua. Ma davvero su Facebook pubblichi una roba del genere? L'avete fatto anche voi? Ditemelo! L'avete fatto anche voi? Vi ho visto? già questi hanno un neurone solo che funziona in quel momento poi vedono una roba del genere volete vedere che cos'è che funziona? Prima il relatore di prima di cui mi sfugge il nome non prima della tavola rotonda ma quello precedente ha parlato di video fate video! Ha ragione perché i video arrivano a un pubblico molto più allargato perché se contate che c'è un test della normale di Pisa dell'Università Normale di Pisa che ha decretato che il 71% degli italiani non è in grado di leggere no tutti sappiamo leggere e scrivere ma il 71% degli italiani non è capace di comprendere un testo leggermente più complesso rispetto mamma ciccia pappa cacca giuro è così questa qui è statistica pura in realtà i veri post che funzionano sui social sono questi specie su Facebook ah no questi due esempi uno su LinkedIn e uno su Facebook bellissima immagine se riconoscete l'animale toccate due volte la foto quasi nessuno riesce a vederlo in realtà c'è un gatto non so se si vede 28.000 like su LinkedIn 28.000 ci sono quasi 5.000 commenti ho detto no io non posso crederci per fortuna nei commenti ho letto ti ho bannato ti ho segnalato sei un cretino tutta una roba così ho detto per fortuna c'è ancora un po' di speranza per l'umanità l'altra invece questi erano questo l'ho raccontato proprio tipo ieri questi erano bei tempi e sotto i commenti si si stava meglio non c'era la Merkel non c'era tutta una roba così ok e voi contrastate sta roba con questa roba qua venduto aveva ragione quello di ne ho visti tantissimi di cioè l'ha già venduta che cosa la fai vedere ancora non capisco questa cosa qua eri tu quello di prima di video non mi ricordo no no scusa ho tutti i lampioni in faccia non lo si capisce allora oggi è il 2022 ma in realtà il fatto che sia venuto meno il tracciamento ci ha riportati magicamente ci ha fatto tornare giovani ci ha fatto tornare al 2005 sapete come funzionava nel 2005 quando io facevo i siti internet la promozione online la comunicazione digitale si svolgeva solo su due strumenti non ce n'erano altri è proprio due la prima era la mail c'era un indirizzo mail tu avevi le newsletter potevi mandare newsletter o mail singole mail alla gente anche lì non c'era GDPR vuole fare qualsiasi cosa oggi però non puoi più fare questa roba qua devi sottostare al GDPR giustamente e l'altro strumento era il sito internet quindi nel 2005 i due strumenti che funzionavano sempre ed erano anche gli unici due erano sito internet e indirizzo mail oggi siamo tornati al 2005 oggi devi avere un luogo quindi partiamo già con la prima soluzione un luogo in cui le persone vedono chi sei le persone riescono a comprendere se sei vale la pena contattarti se trasmetti fiducia se trasmetti tutte le percezioni che loro immaginano di ricevere da un professionista valido del settore ma soprattutto il sito internet va a incorniciarsi all'interno dei bisogni percepiti mentre i social sono bisogni latenti ovvero tu pubblichi la foto di una bella casa sperando che ci sia qualcuno che girando lì ti dice sai che vorrei comprare una casa ma che bella questa casa quasi quasi cambio la mia cioè funziona con l'aspirapolvere ma raramente funziona con il poi anche con l'aspirapolvere non so non so dirvi però non l'ho mai vista funzionare sinceramente funziona con un libro funziona con qualcosa da 30 euro ma non funziona con una casa quindi tu sui social non puoi comunicare apertamente e non puoi far vendere direttamente ok adesso vedremo il perché quindi vendiamo chiunque abbia qualcosa di più di 30 euro vende attraverso i bisogni percepiti io ho bisogno di una certa cosa di vendere o di comprare casa o di affittare casa cerco online ma posso cercare su Facebook su Amazon su Booking su Google su YouTube in qualsiasi motore di ricerca mi consente di fare una ricerca è che io perché io conosco delle signore anziane di 60 anni che cercano su Facebook ad esempio che è il posto peggiore dove cercare perché ti viene fuori veramente l'acqua lunghe quindi detto questo visto che abbiamo distinto adesso tra bisogni latenti i bisogni percepiti c'è un altro modello a cui io voglio fare riferimento e voglio dimostrare la tesi che questa attività qua è funzionale allora questo signore che si chiama Ben Thompson che è un grande guru del marketing mondiale ha lavorato per Apple Google non mi ricordo più per chi ha detto questo qualche anno fa sul suo blog l'unico modo per un'azienda per così dire un'azienda prospera in uno spazio dominato da aggregatori adesso vedremo chi sono gli aggregatori è quella di aggirarli e non di lavorare con loro chi sono gli aggregatori nel mio caso che mi occupo di marketing sono gli aggregatori della comunicazione quindi Google Facebook TikTok Telegram Google YouTube qualsiasi LinkedIn gli aggregatori sono quelli che aggregano il pubblico e te lo concedono allora nella nostra storia mia e di Rudy soprattutto che abbiamo iniziato anni e anni fa vent'anni fa a fare questa attività qua abbiamo sempre visto questa progressione gli aggregatori quando arrivano sul mercato sono buoni coccoloni e gentili e dispensatori di grande generosità e bellezza ti regalano il pubblico ti regalano la visibilità ti regalano i lead poi a un certo punto questi dicono bene dopo aver regalato per tre anni adesso facciamo pagare il pubblico la visibilità e i lead poi dopo aver fatto pagare per tre anni guarda che Amazon ha fatto la stessa cosa dopo aver fatto pagare per tre anni diventano loro concorrenti di te stesso quindi ti vanno a vendere direttamente loro i prodotti che funzionano se andate su YouTube ci sono un sacco di video che parlano vecchi perché ormai nessuno ha più il coraggio di metterli fuori ma ancora qualcuno ci crea i corsi questa roba il dropshipping qualcuno l'ha messo a denominare il dropshipping il dropshipping ve lo spiego in maniera abbastanza veloce un po' più complessa di così voi sapete che potete aprire un negozio su Amazon adesso case ancora non è possibile venderle ma forse fra un po' anche quelle aprite un negozio su Amazon ci mettete veramente cinque minuti e potete vendere qualsiasi cosa basta che rientrino all'interno delle policy della piattaforma e c'era gente tra cui anche ragazzini di 16, 17, 18 anni che aprivano un negozio di Amazon compravano bancali di merce giocattoli cose anche da pochi soldi su Alibaba facevano arrivare questa merce a Reggio Emilia nel cappannone di Amazon e lì rebrandizzavano il tutto e lo rivendevano maggiorato di presto su Amazon perché Alibaba ti vende il cubo di Rubik ad esempio era una delle tante cose che vendevano te lo vende a un euro tu lo rivendevi a 4 euro su Amazon guadagnandoci dei soldi più c'è la commissione di Amazon eccetera facendo questo cosa è successo? che Amazon ha permesso questa attività per qualche anno poi a un certo punto Amazon sapete cosa ha fatto? ha detto sai che il cubo di Rubik lo vendi sempre? lo faccio io lo produco io quindi il suo cubo di Rubik andava prima di quello che pubblicavi tu ok? perché c'erano più feedback era brandizzato dalla piattaforma Amazon e quindi disintermediava direttamente i suoi clienti se tu hai dei clienti su Amazon aprendo un negozio su Amazon non sono i tuoi clienti sono i clienti di Amazon io questa cosa stamattina ascoltandovi perché non sono molto addentro anche se ho fatto qualche consulenza nel settore immobiliare mi sono messo quasi a sorridere con Rudy perché ho detto ma sai che questa roba qui l'ho già vista io l'ho già vista con Google l'ho già vista con Amazon l'ho già vista con Facebook prima gli aggregatori che possono essere immobiliari o poi ne ho viste anche che già altri stanno facendo prendendo diverse strade prima ti regalano lead pubblico ti dicono sì ti mando io i contatti guarda quanta gente cerca i tuoi immobili caricami su tutti gli immobili poi a un certo punto ti fa pagare la visibilità ai lead e poi il terzo passo che ancora non è avvenuto ma io credo che sarà questione di poco disintermedierai oppure farà pagare ogni singolo lead guardate che questa cosa succede addirittura nel giornalismo Deborah forse lo sa ma ci sono dei giornalisti automatici che creano gli articoli ci sono degli algoritmi che ormai sostituiscono l'uomo se non portate valore aggiunto alla vostra consulenza e al fatto che deve esserci uno non so se avete visto ma le automobili fino a fino a qualche anno fa per vendere l'automobile per andare in una concessionaria adesso tutti i miei amici le vendono con questa roba qui noi compriamo auto questo sito che è cioè lì vendi l'automobile in due secondi vengono te la ritirano direttamente perché questa cosa non può accadere anche non nello stesso modo perché poi c'è tutta la burocrazia le banche le leggi italiane che è un po' più complicato ma adesso ci sono gli automobili ma poi saranno anche gli immobili magari collegandosi a reti di franchising molto potenti che faranno l'ultimo passo rispetto e quindi guadagneranno sicuramente meno ok tra l'altro se due indizi fanno un colpevole io qua questa mattina ne ho sentiti parecchi ho sentito che c'è stato un incremento del 4% nell'ultimo anno di operatori del settore ho osservato la totale assenza di marketing ok e poi c'è stato uno che ha detto che lunedì quando si collega con la sua mail trova 20-30 mail di richieste a cui deve rispondere e poi ho pensato a questo ma perché se poltrona e sofà è aperto la domenica e Ford è aperto la domenica gli immobiliari la sabato e la domenica sono chiusi noi che abbiamo lavorato con alcuni grandi gruppi dell'automotive abbiamo scoperto che le automobili si vendono la sera dalle 8 a mezzanotte online giuro dalle 8 a mezzanotte perché è un acquisto della famiglia è il secondo più importante acquisto della famiglia dove devono esserci insieme marito e moglie a meno che non sia un'auto di lusso una Porsche così che lo c'è solo il marito che acquista questa roba qua però se non è è l'acquisto della famiglia è il secondo acquisto più importante perché è il primo acquisto più importante non è possibile farlo di sabato e domenica ho visto un mercato molto ricco un mercato che non ha bisogno di marketing perché arrivano i lead degli aggregatori ma gli aggregatori alla fine io l'ho notato ti fregano sempre perché l'aggregatore è fatto per fare i soldi non per regalarli quindi la cosa importante arrivando al dunque è crearsi la possibilità di disintermediarli non lavorare con gli aggregatori non lavorare con Facebook non lavorare con gli immobiliari con gli aggregatori immobiliari non lavorare con quelli che ci regalano qualcosa per poi prendercela quindi il sito internet di cui adesso non vi sto a fare avendo ancora pochi minuti tutte le potenzialità che è un sito internet ve ne voglio solo dire una di questo sito internet qual è la potenzialità la potenzialità del sito internet è intercettare i bisogni percepiti che non hanno Facebook non hanno lo ha YouTube ad esempio ma i social non hanno questa capacità qua e che questo signore che si chiama Jeffrey Gittomer che non so se lo conoscete ha scritto il più venduto al mondo il libro della vendita si chiama il libretto rosso del venditore 3 milioni di copie dice che sui social guadagniamo un'occhiata non un cliente un'occhiata dobbiamo convertire questa occhiata in un contatto come facciamo? essendo presenti e posizionati all'interno di motori di ricerca i motori di ricerca sono tantissimi non esiste solo Google esistono anche le mappe ma soprattutto dobbiamo ottenere i dati questo signore qua che si chiama Filippo avete notato questa cosa incredibile però che sia Jeffrey Gittomer che è Philip Kotler che è Gerardo e io siamo tutti pelati credo che sia forse il guru del marketing anche se Godin è pelato i guru del marketing hanno questa caratteristica secondo me quindi Philip Kotler che chiunque abbia letto anche un solo libro di marketing la sento nominare dice che oggi senza i dati non vai da nessuna parte e i dati dove sono? i dati sono ovunque ma soprattutto il sito internet è in grado di raccoglierli guardate ad esempio Amazon e Google Amazon e Google secondo voi sono aziende poco informatizzate? e allora perché se non sono poco informatizzate ci mandano a casa la carta? sono stupidi? tanto più che Google è proprietaria delle blacklist mondiali della spam quindi avete mai notato che le mail di Google non vanno mai finire in spam? ma pensa quindi c'è la sua mail è sempre garantita che arriva e ti mandano a casa la carta perché se non lo fanno loro? sapete perché lo fanno? perché la carta gli dà maggiore attenzione in più nella carta non c'è scritto compra c'è scritto ti regalo in una c'era un assegno di Google dove c'erano 400 euro che se volevi utilizzarli per fare la DV nell'altra c'era una carta di credito di Amazon con cui se volevi avevi Music Unlimited per 4 mesi gratis ok quindi ti mandano la carta per regalarti le cose ma questo lo possono fare se lo possono permettere perché hanno i dati i dati sono la cosa più importante voi che avete visto tutti i giorni da anni che ricevete in ufficio mail eccetera avete i dati avete i dati i dati sono veramente qualcosa che vi salverà la vita quando gli aggregatori vi diranno mi dispiace da oggi siamo in concorrenza con te tra l'altro adesso avevo preso in esempio un sito internet di un come si chiama di un'agenzia immobiliare italiana però Gerardo me l'ha fatta cazziare perché dice che non sta bene non sta bene e allora ho preso il mio amico Andrea Giuliodori che lui di raccolta dati ha fatto scuola vedete ha 255.000 mail e le ha fatti solamente creando un sito con cui scarica il test scarica l'ebook partecipa al corso gratis vabbè non è una cosa applicabile al mondo dell'immobiliare ma voi avete sicuramente scarica fai la valutazione gratuita scarica i 5 modi per cui la tua casa l'ebook i 5 modi per cui la tua casa può essere presentata bene e maggiore possibilità di venderla sto improvvisando così al momento però avete tante possibilità che il sito internet ti dà la possibilità di raccogliere dati cosa che i social non te lo danno e in più questi sono i biglietti da vista che io e Rudy abbiamo in due scatole da scarpe in ufficio li ho buttati per terra e li abbiamo tutti inseriti all'interno di un CRM quindi io questa mattina c'è stata una ragazza qua che non mi ricordo più perché adesso c'era seduto Rudy dove era sotto lei tre soldi credo che si chiami sì chi ha detto questo io vado nelle agenzie immobiliari e non hanno il CRM è una cosa incredibile cioè si parla di metaverso ma non avete il CRM questa è una roba veramente che è la BC di qualsiasi azienda vado veloce dicendo questo l'ultima alternativa la seconda alternativa poi chiudo è che c'è la possibilità di fare un percorso alternativo e anteporre la vostra presenza a quella della vostra agenzia come potete notare questi sono tre esempi di tre personaggi famosi proprietari di grandi aziende che hanno tenuto dieci volte il pubblico rispetto alle loro aziende oggi metterci la faccia è qualcosa che cambia la vita e le persone vogliono sui social specialmente parlare con qualcuno che ha una faccia un nome un cognome quindi è uno spunto che vi lascio io ho scritto cinque libri sul tema sul metterci la faccia e niente è finita così grazie Deborah ecco questo è un esempio di un'americana che ci ha messo la faccia grazie a tutti senti